Cari amici di calciomercato.com, ci troviamo a Torino in piazzetta Brosio, angolo Via Legnano. Perché ci troviamo qui? Perché stando al tantam mediatico che c'è stato nelle ultime 48 ore, sembra che proprio qui abbia preso casa Gonzalo Higuaín. Di fatto, anticipando quindi il suo passaggio a Torino, ovviamente per vestire la casacca bianconera. Siamo in piena zona Crocetta, uno dei quartieri considerati bene del capologo Sabaudo, a due passi, veramente a due soli isolati dalla sede della Juventus di Corso Galileo Ferraris, ma anche a metà strada tra quelli che sono i punti nevralgici della vita Juve qui in città, a 20 minuti di macchina sia dallo Juventus Stadium che dallo Juventus Center Avino. Possiamo vedere se anche queste voci dovessero essere confermate. Un dettaglio, proprio qui in questa stessa zona, quanto pare secondo qualcuno addirittura proprio nella stessa casa, ha alloggiato anche Marcello Lippi, una nicona, una leggenda per quel che riguarda la storia della Juve. Da Torino è tutto per calciomercato.com, Nicola Balice.